Sicilia ci venga volentieri, quindi l'occasione per ricevere un premio e tornare in Sicilia l'ho colta al volo, sono contento. Il calcio italiano in questo momento? Il calcio italiano se parla della nazionale è un altro discorso, il calcio italiano inteso come squadra delle società di calcio è buono. Lo segue il calcio siciliano? Seguo, non tantissimo, seguo il Palermo, mi sembra che stia facendo bene, allora sono contento.